perfetto ottimo ciao a tutti ciao a tutti benvenuti a una nuova puntata di tintoria nel suo format originale che torna dopo un lungo mese di stop ci sono ben due ospiti come avrete visto se state guardando il video o come avrete sentito se avete un udito affilatissimo è stato in audio avete sentito il respiro di tre persone due oltre me gli ospiti sono valero lundini che torna ospiti di tintoria per la terza volta quindi diventi ufficialmente l'ospite più presente veramente assolutamente no sgargabonzi è venuto due volte c'è una serie di persone venute due volte però tu sei venuto tre volte perché l'altra la tua seconda volta abbiamo fatta in realtà poco tempo fa quando abbiamo parlato di sanremo di sanremo e quindi era quando c'era san remo che sembra una vita fa perché in mezzo c'è stata una pandemia adesso finita e risolta ricordi sanremo esatto ricordi buco e non non ci sono più problemi il virus è finito l'unico il problema più grave dell'umanità è il mio filtro antipop che cade però c'è una una new entry a tintoria matteo di beria come stai bene bene ben arrivato a tutti gli amici di tintoria allora amiche e amiche a tutti gli amici a tutti gli amici avete capito allora io oggi guarda se non bestemmio sul mio podcast ecco e come mai questo podcast in tre come mai vi ho chiamato perché voi siete delle persone che fanno cose che a me piacciono in assoluto e le fate insieme spesso cioè voi avete fatto un po di cose insieme divertenti che condividete sui social ma la cosa più recente che avete fatto insieme che farete insieme che state facendo insieme è un programma televisivo dal titolo una pezza di lundini lundini che è il cognome di valerio che quindi presenterà questo questo programma e matteo è uno degli autori in rappresentanza di uno degli autori chi altro c'è nel programma che possiamo salutare allora giovanni ben in casa con cui già abbiamo collaborato su battute su battute che è il capo progetto di questo programma che tra l'altro questa puntata andrà in onda lunedì lunedì va anche in onda la prima puntata quindi stasera in seconda serata sul red 2 potete iniziare a vedere questo programma che poi va in onda che giorni va in onda il lunedì sì il martedì sì il giovedì e il venerdì ok mercoledì no mercoledì no perché c'è stata c'è un sling e neanche sabato e domenica neanche sabato e domenica perché c'è stato il campionato tutto quanto deve essere così quindi giovanni ben in casa che è quello che ha detto facciamo un programma che si chiama una pezza di una straordinaria emanuela fanelli emanuela fanelli che salutiamo bravissima oltre che se posso dirlo intelligente poi co protagonista proprio anche la quota rosa la quota rosa messa un po da parte la quota rosa quella era la pantera la pantera che però in francese si dice appunto quota quota e poi e poi ci sta valerio coletta valerio coletta anche tra l'altro con lui si completavano gli slot di uomini calvi con la barba che è l'unico motivo per cui io immagino non sono parte del progetto è che c'erano già due uomini calvi con la barba e quindi dice se viene pure tinti poi poi sembra tutto tris poi si fa tris sembra che sarà la sala slot no certo lo capisco poi c'è ci sono delle ci saranno delle comparsate di stefano rapone si cabarettista romano certo il noto cabarettista romano che oramai sta è come è come il prezzemolo oramai rapone cioè fa la mascotte di gardaland e in questo programma c'è anche l'ausilio di una band musicale si che nasce da una sorta di frankenstein dei vazzanichi che è la band con cui sono io ok senza però andrea angelucci il cantante perché anche egli è impegnato in un programma suo che facciamo pubblicità anche il programma di andrea va in onda dal 11 settembre su sky 11 settembre ho detto sky ma ho detto una bugia su rai 5 non so perché ho detto sky ed è un programma di archeologia dove lui art rider archeologia viaggi alt rider art art corridore dell'arte ok quindi lui andrà lì a fare una figura più più nobile perché comunque fa vedere che si arrampica sulle montagne va sott'acqua scopre i musei antichi scopre i tesori va a cavallo quindi lui non non sta nella band e ci abbiamo messo un sassofonista per per fare sì che fossero dei vazzanichi una band più televisiva ok certo perché il sassofono chiama lui è diventato lara croft e quindi è diventato lara croft va sott'acqua e quindi ci sta la band ci sto io e ci stanno degli ospiti di che parla il programma e questo è un matteo i programmi non parla non ha una trama ma in realtà ha una premessa ha una premessa ha una premessa perché questo programma andrà a coprire mettendo una pezza come si dice a roma non so se a roma o a livello nazionale anche a nettuno anzi si dice andrà a coprire lo spazio di una serie di programmi che noi sappiamo già che lunedì martedì giovedì venerdì salteranno salteranno per problemi cioè un programma pezza quindi essenzialmente voi state più o meno pronti in studio che se si crea una pezza 24 ore su 24 se si crea questo buco dice ci serve una pezza e tu sei l'uomo pezza il caso vorrà che questi programmi salteranno sempre quasi sempre nello stesso slot di orario vabbè vabbè perché è uno slot un po' sfortunato capita molto spesso tante persone indossano cose viola e quindi lì voi mi insegnate insomma è questo c'è stato un silenzio d'attesa per una cosa che in realtà non va bene ma non è forse l'attesa essa stessa l'attesa e va bene quindi voi mettete questa pezza tra l'altro una pezza di lundini a roma la pezza o almeno nella mia bubble averci la pezza vuol dire anche avercela con qualcuno cioè c'ho la pezza con questo e ma infatti volevo sapere se c'era ti stavo facendo un esempio di una persona che mi aveva detto che aveva la pezza con un'altra persona però sono entrambi dei tips ah ok e quindi aveva fatto un incidente diplomatico però un famoso cantante una volta mi disse che lui aveva la pezza con un famoso personaggio della tv ok e io non avevo so esattamente chi è il cantante perché è riconducibile alla persona che ha inventato avere la pezza con questa con questo e allora ho detto un personaggio della tv e io ho detto ah ma quindi avere però non so se si dice io mettiamo che a me sta antipatico il diavolo tu dici c'ho la pezza col diavolo o c'ho la pezza del diavolo c'ho la pezza col diavolo c'ho una pezza col diavolo invece ho sentito qualcuno dire eh ma a milano la pezza significa un'altra cosa che ho sospettato qualcosa legato alla cocaina visto come tutte le cose di milano solo solo a base di questo c'è proprio un pregiudizio sui modi di dire milanismo chissà a milano una pezza intanto il tintoria arriva anche a milano tintoria arriva anche a milano e arriva il giorno dopo però è un po in delay però arriva anche arriva anche a milano significa una cosa molto più una cosa positiva vuol dire una pezza tipo una pezza da mettere una pezza uno stofinaccio una pezza per pulire oppure a milano significa un'altra cosa ragazzi la pezza per pulire la pezza per pulire a milano la pezza da noi tutt'altro tutta la cucina so io cos'è no ma io c'ho un problema con questo titolo perché c'è il mio nome quindi quindi c'hai una pezza con questo titolo c'ho una pezza no a me quando mi chiamano come si chiamerà questo tuo programma e devo dire io faccio sempre si chiama una pezza che mi sembra strano dire il nome mio però è il cognome potrebbe essere un altro lundini ma infatti tuo fratello tuo padre come risulta da fuori sinceramente il titolo è strano no allora mi piace innanzitutto figo che c'è il nome tuo su un programma c'è visto da fuori non c'è stato una pezza di tinti non avevi detto arrivato tinti arrivato tinti che pensa di essere chissà no infatti non è così anche perché poi è funzionale a quello che è il programma cioè tu che metti una pezza sulla cosa è lundini che è l'uomo pezza certo che non mi non mi responsabilizza cioè se dicono certo che una pezza di lundini non è un grande programma e poi non è che posso dire anni dopo no ma io non c'entravo niente no era flop al programma e io cado con sanzoni e tutti i gelati della la nota compagnia di gelati no e poi se si fosse canato solo una pezza non avrebbe funzionato non avrebbe funzionato poi a milano chissà che pensavano ma quindi se parla di pulire invece no si parla di metterci un titolo con che porta un carico di responsabilità però dal momento che il podcast di tintoria nasce da un presupposto per poi chiacchierare d'altro certo un pochino dal ti prego ti prego dal programma ho già finito le domande dal programma in sempre di una cosa più vasta che io nel tempo col tempo ho capito che i titoli sono una cosa a cui si dà tantissima tantissima importanza gente perde tempo perde mesi questa band ma non troviamo il nome della band i nomi i titoli quando poi alla fine una volta che dai un titolo hai risolto sì cioè non è spesso ti abitui subito dopo un secondo cioè pensa quanti gruppi musicali hanno nomi in merda o ciò sta bene come li chiamiamo guns and roses sia arrivato il rocchettaro e pistole e le rose ma sembrava dei deficienti e poi non è che uno dice certo deve vedere i guns and roses stasera ma che no va bene il dorso ma pure i beatles degli scarafaggi ma beatles sembra ovviamente è un what if sì è un what if molto forte quello sto facendo però beatles se non fossero esistiti beatles ma fosse esistita la musica come quel film sembrava un nome da cover band o da gruppo da gruppo beat noi ci chiamiamo beatles perché facciamo beat capite come i gruppi nei pub fanno sempre scape strati scappati di casa gli scout i mondo beat perché noi facciamo beat quelle cose un po carine poi invece sui beatles quindi una pezza diciamo che io all'inizio fatto oddio ma forse invece poi ha detto no devo dire basta che pensiamo ad alto io non mi sono mai neanche posto la questione sul nome quindi da utente finale non dirò certo quello il problema no infatti poi conterà il contenuto conterà conto contenuterà contenuterà il contuto esattamente e che che sono molto molto curioso di vedere e ho in realtà è molto qualcosa l'hai già vista ho visto l'ispezione sul telefono ci staranno anche mi hai detto delle cose che tu avevi già poi questo se non si può dire avevi già girato tipo per esempio col telefono dei micro sketch girati nel corso della tua vita allora sì in realtà ce ne stanno tipo sei sette non lo so quanti dai cinque ai sette che li abbiamo messi in montaggio in alcune in un puntato in cui si avevano degli snodi e alcune cose già post prodotte ci abbiamo infilato delle cose proprio delle cose proprio da instagram da da ok così non so come come verranno però stanno là prendono 10 secondi l'abbiamo infilato va bene allora questo per dire che per scrivere comunque sia un programma di questo tipo c'è bisogno di cioè di scrivere tanta roba quante quante puntate sono saranno un po' un po' vabbè comunque saranno un po' perché andrà avanti per un po' per un po' non lo sappiamo quando finisce finirà da un po' diciamo che può annoiare quante può arrivare ad annoiare non è una cosa che dici sai mi vedo quelle quattro puntate ne parlo più di cinque diciamo sono più di cinque più di cinque meno di mille meno di mille puntate meno di mille puntate quasi sicuramente perché poi dipende quanti buchi si creano adesso stiamo ancora scrivendo cose che dovremmo fare in futuro questo per dire che appunto per scrivere un programma così bisogna attingere a tutta la propria vena creativa immagino e anche però c'è la possibilità di dare una vetrina di dare il giusto la giusta cornice di dare la giusta visibilità magari a idee spunti creativi che uno ha avuto in passato nella vita e dice certo sta cosa rimane qua e invece poi finalmente uno arriva a condurre a scrivere un programma a coscrivere un programma e dice finalmente quella cosa che avevo scritto adesso gli posso dare una cornice televisiva questo perché e qui mi ricollego da grande professionista voi appunto avete fatto un sacco un sacco di cose nella vita anche insieme prima di prima di questo successo straordinario e meritato e decretato e allora la cosa mi incuriosisce voi una cosa che facevate molto e adesso fate molto meno era scrivere su facebook cioè voi avete avuto molte cose condivise su facebook correggetemi se sbaglio allora quanti insospettabili non eravate con noi no perché pensavo su facebook io per esempio in realtà facebook come status uso molto poco e no infatti per quello in questa cosa mi annoiato tipo tre quattro anni fa infatti proprio a quello vuole arrivare comunque è finito ancora prima però sì è una cosa poi anche mi sono segnato i nomi che non mi ricordo come si chiama mondo no mondo incubo mi sa che te non c'eri non c'eri mondo incubo poi ci sta anche valerio goletta che abbiamo già citato io quando giovanni veni in casa mi ha detto chi può venire a scrivere delle cose aiutarti a scrivere delle cose e tu hai pensato immediatamente a uomini calvi con la barba ho pensato a uomini calvi con la barba e no ha chiamato loro due perché lì risiede la creatività certo no perché se non l'avessi chiamate conoscendomi dopo dovendo scrivere tot puntare soprattutto gli avrei detto senti Matteo ma posso usare quella cosa che hai detto te una volta lui fa vabbè sì una volta poi ma posso usare anche quella cosa lì due volte allora a quel punto ho detto senti facciamo così risolviamola per evitare di trovarsi gli avvocati di trovarsi gli avvocati e quindi no mondo incubo era una cosa che avevamo inventato in realtà non l'avevo inventata io Valerio Coletta che salutiamo una volta mi venne a prendere con la macchina ma parliamo di anni e anni fa lui e un altro nostro amico si chiamava Lorenzo Colosimo che si erano intrippati a dire siccome non lo so tipo dovevo andare a giocare a basket ha detto sono andato a giocare a basket ma pioveva e lui la uno fa all'altro pensa a un mondo dove ogni volta che vuoi giocare a basket piove e l'altro ha risposto pensa a un mondo dove ogni volta che vuoi giocare a basket gli unici campi liberi sono quelli dove piove e da lì tutta quella sera fino a luna di notte noi abbiamo passato la serata a dire pensa a un mondo in cui i portachiavi sono obbligatori e pesano un quintale e pensa a un mondo in cui i brufoli parlano quindi ci siamo immaginati di tutti questi mondi e li abbiamo messi in un mondo incubo questo è il multiverso dei mondi incubo e secondo me ci si potrebbe fare un libro è proprio una classica cosa che nel 98 avrebbe venduto negli Autorella oh mi sono comprato questo libro e dire attentissimo un mondo incubo te lo devo troppo oppure se eravamo più svegli noi anche voi nel 2015 quando era facevate il libro per esempio pure Coatte Insospettabili perché non ha fatto Ucash? perché Coatte Insospettabili c'ha pure un bel successo raccontiamo cos'è invece la genesi di Coatte Insospettabili io non vi conoscevo ero grande fan vi ho condiviso più di una volta pensa che la cosa di Coatte Insospettabili per farti capire io avevo questa idea ma tipo 10-12 anni fa pensavo di farne un blog perché allora c'erano ancora più blog certo perché ci sono una serie di foto di persone, di intellettuali, di artisti in cui fanno delle facce, dei gesti con la mano la famosa mano a cucchiara a me proprio quello che mi aveva scatenato questa idea una foto di Orson Welles mentre legge la famosa lettura della guerra dei mondi quella che scatenò insomma pare, non si è capito se è vero o no che è proprio con questa mano così a cucchiara come si dice dico per chi non sta guardando a cucchiaio moglie faccia per cucchiara è proprio coatto però Orson Welles non era coatto era ben sì quindi piano piano iniziò a vedere queste foto in cui c'era questa discrasia sì, bella parola molto bella, complimenti quindi dopo un po' che ce le mandavamo perché poi abbiamo notato cioè gli ho fatto notare a lui facciamone una pagina Facebook sì, poi io sono bulimico perché c'era un periodo in cui gli aggiornavo ogni giorno ne mettevo una e lui diceva no, non devi metterne una al giorno però io volevo investire sul progetto e poi ci fu la consagrazione quando ci condivise Repubblica.it che all'epoca era come vincere l'Oscar sì, sì, sì Repubblica all'epoca era ancora rispettata ma già un colosso del web non aveva perso cioè, penso che rispetto a pagine che adesso ci sono di Facebook diciamolo rispetto a Osho vuoi dire questo? no, 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 no anzi, intanto non parliamo no, no, no è che mi stavi mi stavi anticipando quello che stavo per dire rispetto ad altre pagine che magari di meme di cose così che adesso hanno un botto di visualizzazione io magari allora era un piccolo fenomeno ma molto più in piccolo rispetto ad adesso però ci ha dato un po' un modo di sperimentare alcune cose di rapporto col pubblico col mondo tipo a me mi ha fatto riflettere un po' sulla questione dei plaggi perché tu sai che quando quando abbiamo iniziato a fare questa cosa tipo un mio amico mi dicevo guarda che c'è sta uno che vi ha copiato questa pagina si chiamava ti ricordi? imbiancata terribile imbiancata terribile che era una versione più brutta sì era più brutta era più brutta era proprio fatta erano solo frasi coatte no, c'era una foto di Lillo e Greg che già non ha senso no, perché? non perché siano coatte ma perché già sono pezzaggi romi ecco Greg che diceva a Lillo se te rode dillo che cos'è? una battuta brutta che dovrebbero fare loro in un universo in cui non fanno riuscire cioè un conto è fare Hudson Wells un conto è prendere dei personaggi di Roma a noi ci piaceva il contrasto no, no, no è chiaro e per loro quello era plagio capito? e un mio amico diceva guarda questi danno copiato faccio buono non credo hanno avuto un'idea simile ma e la cosa divertente è che è stata poi che l'autore invece di questa pagina ha iniziato a pensare che il contrario cioè che noi avevamo copiato lui e addirittura aveva immaginato tutto un complotto per cui noi avevamo preso il suo format che comunque era c'erano anche bestemmie le cose lo avevamo reso più family friendly per poi arrivare su repubblica.it che comunque è un piano un po' assurdo perché lo puoi fare ancora cioè perché non prendi i testi della Dark Polo Gang li rendi più familiari diventi non lo so per andare sulla colonna destra di repubblica.it no no certo salutiamo gli amici di repubblica.it per l'altro lo dico insomma non è questo grande mi pare che poi in biancata terribile io scoprì che si stava già da prima sì sì quindi cioè beh quindi nel caso aveva ragione lui aveva ragione lui no no non è per dire che non hanno ragione era per dire che non c'è problema a dire che era nata prima semplicemente era una cosa mettere delle frasi sopra delle persone no no però cioè per esempio lì è stato il caso in cui ho proprio avuto testato con mano il fatto che spesso un sacco di sai che abitano spesso queste situazioni in cui ah hai fatto una cosa uguale alla mia io l'ho fatta prima allora questa cosa cioè è una cosa su cui ci avevo già ragionato prima però poi quando proprio ti scontri in prima persona vedi che un sacco di volte è una cazzata beh ma questa cosa del web a me io non so non so bene come mi ci pongo perché su internet io la questione l'ho fatto io l'ho fatto prima io cioè nel senso la cosa dei meme è proprio la replicabilità e la diffusione lì c'era la cosa dell'idea cioè avete copiato l'idea di mettere le frasi coatte ma che idea è c'è nel senso io sono molto sono molto scientifico al punto che poi dopo che si è creato un boom ancora più grosso queste cose tipo la scienza coatta poi c'era se i quadri potessero parlare che comunque là era sui quadri non sulla cosa però poi il trend che poi magari intanto la gente dice ma quelli hanno copiato però è un'idea così semplice così stufa potete che è una cazzata sì esatto però uno ha un'idea è una cazzata a far ridere la fa bene è la stessa cosa dei doppiaggi simpatici le cose gli vedi in espressione gli fai una cosa solo è infatti in foto comunque il programma invece è tutto copiato da altri programmi vabbè certo però coreani sì sì certo nordcoreani certo certo Eric Andresho allora no non è vero Eric Andresho ce l'avete presente certo ma lo sai che è uscito dopo no penso ci sono delle cose no solo la cosa dell'intervista all'ospite con i momenti ma tu sai che noi mentre parlavamo del programma ogni tanto lo citavamo Eric Andresho però comunque per chi non l'avesse visto comunque è un programma è un programma abbastanza pazzo molto sperimentale diciamo vai non da tardi la notte in America è pazzissimo è una cosa veramente d'avanguardia quindi dicevamo sì vabbè ma non pensiamo un troppo a quello perché cerchiamo di essere un po' più e poi però effettivamente qualche cosa ma anche involontariamente posso citare un altro programma il tono lo ricorda Between Two Ferns di Jack Galiciano me l'hanno detto sì ma guarda non sto criticando sono dei bei dei programmi esatto che uno deve avere non sto dicendo Between Two Ferns me lo fece scoprire lui quando io gli dissi una volta che sarebbe stato figo fare delle interviste diciamo sui generi strane ai persone gli avevo raccontato e lui mi ha detto guardati Between Two Ferns e me lo sono visto non me la ricordo stavo all'estero stavo a Londra da solo mi ero venuta assidata ho mandato un messaggio e mi hai detto guarda Between Two Ferns poi ci avventuriamo anche su che cosa facessi tu a Londra da solo ero andato a vedere musical quando si poteva prima che li pietassero no e mi ricordo mi fece vedere Between Two Ferns lo vedi e secondo me Between Two Ferns ha due cose che lo rendono cioè una cosa che ha a disposizione il jet set americano che chiaramente se c'è Obama è diverso c'è Obama e già comunque non puoi giocartela male però c'è una cosa che che è molto diversa che è come se lui volesse mettere in difficoltà l'ospite e anche l'altro che ha detto che è Ericandre è un po' che vogliono non sfottere però è come se lo provocassero un po' Ericandre quasi li tortura si pongono come antagonisti non è mai stata la mia intenzione anzi mi piace pure che che l'ospite passi dalla parte non della vittima della presa in giro ma di uno che prova anche compassione per la situazione in cui si trova cioè un po' in difficoltà ma una difficoltà dalla quale potrebbe anche evadere non lo fa per pietà cioè questo l'ho fatto anche nell'altra fece delle interviste ai musicisti che partecipavano al primo maggio e comunque era così poi è ovvio che è difficile spiegarla a un ospite che non ti conosce perché dici guarda era un'intervista di stampo comico surreale io fossi stato in loro e ho detto no non la voglio fare perché già mi sarei aspettato infatti avendo io visto degli spezzoni di alcune delle prime cose che insomma le primissime cose che sono state registrate esatto le interviste di prova come funziona? cioè se arriva un ospite cioè sa sa già che è un'intervista cioè non sa le domande qualcosa sì ok questo poi chiaramente cut Matt no no giusto per capire perché avendo visto che ne so vabbè una senza citarla ma una delle interviste di prova che avete fatto cioè è un'intervista che non è un'intervista normale cioè pure i tempi sono diversi non deve rispondere non deve fare il simpatico eh no diciamo che non fare il simpatico non c'è mai la cosa di fare il simpatico ma questo vale pure per me per noi un po' il programma per la vita basta non è un programma dichiaratamente di varietà se fosse stato così avrebbe avuto più senso dal momento che è un programma che vuole essere un programma istituzionale fallimentare chiaramente non ha senso creare un'atmosfera scherzosa quando tutto quello che succede è strano sì è come dire scherziamo sul fatto che non funzionano le cose allora sdrammatizzi invece è un po' bello che ci sia un po' di difficoltà palese non so se era chiaro no no ero solo curioso di sapere se viene detto alla persona non fare il simpatico no no non fare il simpatico cioè non fare il simpatico cioè non ne viene detto così ma allora ti dico una cosa sola non devi fare il simpatico guarda quasi sì vabbè no no perché se no perché se no le camuffo te sdrumo azioni no vabbè perché poi se no veniva anche un po' una copia di quello di di Cattelan ce n'è già uno no certo perché quello non è una cosa che si sovrappone cioè uno stile diverso zero zero immagino immagino zero e invece il posto siete voi eravate voi qualcuno di voi io e Valerio Coletta la pagina web che nasceva come parodia della pagina il post sì era una pagina surrealissima di Cazzara poi un giorno facemmo come te non era un podcast era una web radio sì era una web radio ai tempi si chiamavano ancora web radio poi la maggior parte degli ascolti sentita da dieci persone dieci erano erano indifferita su questo podcast sì sì ed era un po' molte volte una diciamo un provavamo delle cose provavamo delle cose ed è un po' una puntata a zero cioè poi è diventato alcune cose io me le sono riciclate con Lillo e Greg in radio come autore certo bisogna mangiare no perché effettivamente erano idee radiofoniche che per loro andavano bene chiaro e altre cose sono morte lì e forse qualcosa che abbiamo riusato anche nel programma non lo so vedremo non mi ricordo c'è qualcosa non ricordo bene ah no c'è una cosa che poi non abbiamo messo che era l'intervista a Dio sì bello però poi non è stata messa nel programma perché sulla Rai non sta bene no no non era nostro signore no non era quello è che non era così interessante alla fine Dio c'era poco da dire c'era poco da dire c'era altri cazzi per la testa giustamente con tutte le cose che succedono il campionato ha stati chiusi quello ci deve pensare lui va bene e quando registravate la web radio del posto cioè dove la registravate a casa con dei cosi e c'era da uno studio noi c'eravamo proprio appoggiati a una web radio proprio un canale web radio ah ok che registrava in un locale in un locale il San Belusci a San Lorenzo il San Belusci a San Lorenzo dove si trovava? quindi si sentiva tipo anche il tintinio dei bicchieri la gente che parlava si sentiva? eh un po' sì mi piace molto che hai infilato tinti nella conversazione eh sì sì grazie si vede che sei un professionista la radio si chiamava Alice Radio no Deliradio 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 perché era come un delirio capito? erano dei pazzi ok 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 ma penso lo siano tutt'ora dei pazzi c'è qualcuno qualcuno ha mai sentito una web radio? noi la nostra ok allora io solo web radio su cui sono stato intervistato per i dieci minuti prende l'intervista quando intanto ti sintonizzi al telefono e ti dice ah vedi questa guardate che è il futuro noi perché adesso prendiamo in giro le web radio e non ascolta nessuno nel 2030 tu dici oltre a essere ambra presidente del consiglio ci sarà la radiolina che c'hai di solito invece di FM si connetterà internet e tutte le web radio eh ma no non sarà una radiolina sarà un nuovo cellulare sarà il chip che tu hai qua sarà il chip sì e ti si sente direttamente nel cervello fammi sentire delirati sono d'accordo perché ci sarà capito sarà tutto certo guarda probabilmente hai ragione e vi volevo chiedere una cosa però tutta questa cosa su il posto il mondo infame no com'è che si chiama mondo incubo mondo incubo e anche quattro insospettabile lì c'è molto Valerio Coletta il posto e mondo incubo però che Valerio Coletta salutiamo di nuovo perché mondo incubo ah questa è una cosa è un trivia mondo incubo è due terzi del del lessico di Valerio Coletta perché sono Valerio Coletta riesce a comunicare un vasto range di concetti con tre parole che sono mondo incubo e mega ok ok come andata il dottore oggi no incubo ok ma anche cose positive tipo ma c'erano c'erano delle belle ragazze a quella festa ieri incubo per dire ce ne erano molte certo mega lo direbbe se tipo è andata anche bene con questa cosa c'erano mega invece incubo come dire più delle volte sì ce ne erano purtroppo tante certo e tipo ma dove stai adesso mondo milano cioè sto non solo a milano ma sto anche lavorando sì sì mondo milano potresti pure stare a roma bravo però se stai facendo un aperitivo di lavoro sì sì sto frequentando la redazione di vice esatto a lavorare a milano a scrivere un articolo se stai scrivendo un articolo per vice mondo milano anche se ti trovi in basi di casa è un modo di comunicare molto economico mi piace mi piace i pokemon ma con un po' più di parole si sposta anche su i pokemon riescono veramente a dire pochissime cose con niente con loro nome con niente cioè perché poi per esempio pikachu si avventura al massimo a tutte e tre le sillabe cioè pikachu ma quasi mai di solito basta però per le persone è meno efficace invece questo già questo questo tipo di comunicazione se ti scegli le tre quattro parole giuste nelle giuste combinazioni questo è molto bello se le dovrebbe tatuare vetrino per lo schermo del computer sì vetrino per lo schermo del cellulare è un termine che nella lingua di pikachu e nella lingua di coffee si dice in due modi diversi sì nella lingua di pikachu si dice pikachu nella lingua di coffee è coffee si dice vetrino per lo schermo del cellulare però loro si capiscono loro si capiscono e gli umani i loro umani li capiscono forse li capiscono sì li capiscono sì 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 ma io vedo ecco è una cosa che supero la la parete del source vai ci sono dei ventilatori allora qui come funzionano parlacene lì c'è un ventilatore che va buttato ma vuoi un ventilatore che funziona perché di solito io c'ho un ventilatore che mi ha regalato la mia ragazza che fa però fa uno tsunami di vento me lo vado a prendere intanto io non credo che al pubblico dia fastidio intanto voi continuate a parlare effettivamente fa caldissimo fa molto caldo perché questa questa registrazione va in onda lunedì ma oggi non è lunedì lo possiamo dire lunedì che sarà settembre inoltrato sarà settembre inoltrato oggi è un viene Stefano Rapone Stefano Rapone a prendere il posto stavamo stavamo parlando di Pokémon lui è Stefano Rapone sono io che è sempre presente quando fai sì ero in bagno dall'inizio del podcast ero in bagno sono appena uscito dal bagno poi dopo torni tu fai una pausa bello si si chiama posso dire la marca di questo ventilatore a tintoria Cooper Cooper con la K ah lì c'è Cooper eccolo lì Cooper molto carino e niente ragazzi io torno in bagno Stefano ci vediamo allora a dopo alla televisione ci vediamo stasera ci vediamo stasera non ci sarà di stasera no no questa non ci sono ma magari nella prossima chissà 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 se non farà una comparsata una visita vediamo ciao vi rilascio a Daniele Tinti il titolare del il tintolare questa è molto il tintolare molto carino ciao Gianmina tutte le battute vengono fatte a tintoria sono già depositate insieme ah ok questo ve l'avrei dovuto dire che forse è anche illegale però allora tutto questo discorso per chiedere una cosa voi prima quindi facevate cose anche con Valerio Coletta che salutiamo che per cui postate su facebook scrivate su facebook ora non lo fate più cioè nel senso ogni tanto scrivete delle cose buffe su facebook Valerio scrivete io molto poco io molto più di prima in realtà sì però tu adesso tu come Valerio Lundini però non crei più pagine buffe simpatiche secondo voi come mai cioè nel senso visto che io pure prima avevo pagine su cui postavo su cui scrivevo e poi ho smesso come mai cioè come mai abbiamo perso la voglia di creare cose divertenti su facebook come mai abbiamo perso la voglia di provare a creare pagine che cosa è cambiato siamo cambiati noi è cambiato facebook sono cambiate tutte e due le cose è cambiata la comicità tutte e tre ok vai io ti posso rispondere per si sente un botto il cosa io non ho le cuffie no ce l'ho solo video però magari si fa due che si sente un po' di meno perché sennò forse è addirittura aumentato il volume si vorrei più cubo scusami vai vai è come un treno ma allora ti posso rispondere per quanto riguarda il il mio profilo personale che è proprio l'argomento che interesserà meno persone in assoluto però forse secondo me è quello più interessante poi a livello globale nel senso che secondo me il facebook soprattutto quello italiano ha creato una sorta di di bolla di simpatici per cui dopo dopo un po' il gioco è diventato già un po' noioso nel senso che succede una cosa e c'è la corsa a fare la battuta si e la battuta più ovvia e la seconda più ovvia la terza più ovvia che ti possono venire in mente c'è qualcuno che l'ha già fatta e quindi c'è anche un po' una gara a fare la battuta su quelli che fanno la battuta è già stato detto è già stato detto e poi è anche il mondo non battutistico ma serio di polemica del giorno polemica della settimana cioè questa nuova modella di Gucci che è proprio brutta no è bellissima è brutta è bellissima è brutto che diciate che è brutta è bello che diciate che è brutta è sbagliato qualsiasi opinione qualsiasi opinione su questa io devo spegnere perché non sai che cosa si sente quando ok ok quindi tutto quello che abbiamo detto si è sentito quello che ha detto non c'è più gusto cioè qualsiasi qualsiasi opinione su ogni argomento del giorno viene già disaminata da da migliaia di persone disanimata 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 non è il caso le viene tolta l'anima le viene tolta l'anima disaminata non è il caso dei guatti insospettabili di mondo incubo però in generale quello sono delle gag che dopo un po' si esauriscono ma sarebbe anche per il tempo comunque c'è il tempo che avete sa fare i meme su internet ma poi erano meme quelli di mondo incubo no cioè io oramai dico meme qualsiasi gag buffa cioè qualunque cosa che sia su internet qualsiasi cosa buffa su internet per me è mondo meme cit Valerio Coletta mio nuovo mito ma poi perché ci sono cioè cioè perché poi mentre magari ci sono delle persone per cui la pagina facebook o la pagina di meme o che ne so il canale youtube sono la principale principale canale di espressione creativa che hanno per noi non è tanto cioè noi facciamo altre cose quindi sì sì ma pure te non credo che se ti viene un'idea la metteresti sotto forma di meme o sotto forma di contenuto meramente cioè anche te anche te che fai gli spettacoli poi non è che non ti vedo molto spesso su facebook scrivere battute alla fine è un po' quello no tra l'altro ho scritto ho provato l'altro giorno ho detto mo scrivo una battuta volevo scrivere una battuta sulla modella di Gucci e l'ho scritta e l'ho cancellata io volevo scrivere oggi era sul fatto che vi assicuro che dal vivo è molto bella e soprattutto da ubriaco una volta era venuto a Roma e con la modella di Gucci ci ho fatto l'amore e solo la mattina dopo mi sono accorto che era Betanima Punzo e mi faceva ridere perché Betanima Punzo ha fatto il modello per Gucci e quindi volevo fare una cosa per cui tipo la modella però funziona più in inglese cioè dei Gucci model con cui sono andato a letto era Betanima Punzo Rapone mi ha fatto giustamente notare che rileggendole invece sembrava solo che stavo dicendo che lei sembra Betanima Punzo che è come l'avevamo interpretato tutti esatto e quindi ho preso tipo 20 like di tutti i maschi e l'ho rimossa perché effettivamente se scrivi una battuta e poi non è che puoi rosicare se la gente la interpreta per quello che c'è scritto cioè se scrivi è uguale a Betanima Punzo è capitato che ho scritto delle cose su Facebook che poi ho cancellato non mi vergogno a dirlo ma io però questa l'ho cancellata perché l'ho scritta male io no no anche per quello se io fossi stato sicuro della mia battuta l'avrei tenuta però era effettivamente una battuta della legge e c'è scritto vabbè quindi sta dicendo che lei è uguale a Betanima Punzo non era quello il senso della battuta che potevo fare quindi l'ho cancellata dicendo se scrivi male una battuta poi la gente dice hai scritto questo devo poi dire no no ti dico che a me per esempio un'altra cosa non è che uso tantissimo però le stories di Instagram con il fatto che si cancellano in 24 ore se devo dire una cazzata preferisco scriverla là perché veramente poi gli dai poco peso sì certo vero vero tipo contenuti antisemiti semmai li scrivi lì se io ho un programma adesso su Rai2 e la sera scrivo una cosa antisemita dopo 24 ore non c'è più quindi lo posso fare esatto bravo hai capito esattamente come funziona la Rai attenzione sto scherzando esatto sono prosemita cioè vorrei più semitismo ma a proposito no senza proposito Stefano Lapone no Stefano Lapone stamattina ero con lui a fare colazione e sul mio cellulare è comparsa una notizia una notifica di immuni che non l'ho aperta però non l'ho aperta perché mi va mi rallerta il telefono esatto c'era la foto di la modella di Gucci famosa di cui parlavi prima Armine Armine no eh capita spesso va vai continua a parlare capita durante tutti i migliori podcast vai parla 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 e c'era lei molto una foto di lei condivisa da questo hai detto che è molto brutta si una foto condivisa da questo daily news qualcosa una foto di lei mentre mangia ed è effettivamente è una foto di lei non particolarmente venuta bene una foto dove lei non sta bene come ci sono tante foto in cui noi non stiamo bene ce n'è una dove anche lei io lo stai ricordando tu questo c'è una foto di lei proprio brutta in quella foto sta brutta poi non credo che sia bruttissima lei una delle tante modelle e mi ha fatto ridere perché il commento di questa notizia di questo giornale era la modella di Gucci risponde così agli attacchi cioè come dimostrandoti che lei può essere anche più brutta cioè la cosa bella di questo articolo è che voleva dire vedete lei se ne frega di quello che ha pensato lei non solo se ne frega mette un'altra sua foto insiste con questa cosa che non è bella cioè lei magari ha messo semplicemente una sua foto e tutti grande che te ne freghi al punto tale da peggiorare sei ancora peggio in questa foto ma lo fai perché dimostri che te ne freghi lei fa ma io veramente volevo che dicessero anzi quasi non è bella e quindi mi è piaciuta questa cosa della modella risponde così ai vostri attacchi con una foto da mostro così con una sua foto poi sono andato a vedere sulla pagina di lei non c'è quella foto quindi è una notizia inventata stupendo hanno preso una foto di lei peggiore di altre un mostro ripilante con cui emette questo suono e lei risponde così alle vostre accuse grande sai quelle cose che fai da bambino tipo un po' la facciata feroce e ti dici in che senso ho capito basta ma non l'ho fatto basta basta fa la facciata feroce abbiamo capito stessa cosa però fatta per difendere che infanzia selvaggia questa all'aquila non è mai arrivata ho fatto le elementari dalle suore molte moda che sapevano essere delle bulle tremende questa è molto bella era la suora che te lo faceva la riutilizzerò all'aquila per ancora molto successo tra i miei amici i padri di famiglia ormai dico fai la faccia alla frocio vabbè mo smetti però mo smetti nel senso che è la faccia tua quindi perché io ti ho chiesto fai la faccia alla frocio e muove lo spettacolo e non fai la faccia alla frocio per un po' ti ci promuovi il prossimo spettacolo ma che è tutto così allora vengo si chiama la gay face il mio prossimo spettacolo la gay face che non si può fare no esatto la gay face esatto la gay face non si può fare è questa è una faccia è una faccia è un podcast è una cosa solo audio ah ho fatto la faccia di Luca Ravenna quando fai il gay esatto lo dichiaro quella è una faccia di Luca Ravenna io ho sempre l'incubo no no infatti la faccia è Luca Ravenna che fa l'omosessuale comunque abbiamo un po' si è degenerato comunque in questa casa Ellen DeGeneres che tra l'altro pure lei sta venendo cancelled perché pare che è uscito che è lesbica no si pare sia malvagio e soprattutto quelli che lavorano per lei siano mega malvagie fanno i predatori sessuali di persone che vorrebbero apparire su Ellen quelli che lavorano per lei scappano durano tipo tre mesi perché tratta tutti malissimi quello sì però quello sti cazzi si vede che è una faccia cattiva quello però sti cazzi ma mi sa che pure gente che lavora per lei fa proprio predatorismo che però quello non è colpa sua però insomma pare che lo studio di Ellen fosse un incubo quindi adesso hanno cancelled pure Ellen che comunque è la più grande figura anche lei trattava male gli ospiti durante il programma ci sono un paio di cose tipo Pierluigi Viago sì sì ma no ma proprio studiatamente esiste studiatamente studiatamente da adesso sì con studio cioè in modo studiato in modo studiato cioè tipo che ne so viene l'attrice che tu sai che è abortito spontaneamente e dici allora come va questa maternità facendo queste cose come va questa maternità è qualcosa è proprio una persona malvagia molto male si è scoperto eh vabbè quindi Ellen è malvagia eh vabbè ma d'altronde le lesbiche prego cosa faccio come ha fatto Valerio prima scherzo tanto giuro che secondo me nessuna donna omosessuale ha mai ascoltato Tintoria non so perché c'ho questo perché pensi non lo so non lo so sto pensando un famoso sto pensando se ho amiche omosessuali che sentono Tintoria mi viene in mente ma tu non devi puntare alle tue amiche devi puntare alle omosessuali che non conosci ne esistono così tante scherzo no vabbè speriamo speriamo che Tintoria arrivi anche agli amici e le amiche omosessuali e dici che abbiamo un po' degenerato è bastato dire degenerato per parlare di Ellen del genere no no perché non volevo tirare fuori la cosa della modella brutta barra bella perché non tanto per la questione in sé un po' perché sono delle questioni che escono fuori proprio con lo scopo di essere oggetto di dibattito certo Gucci ha messo quella modella dicendo se ne parla sarebbe la cosa più giusta è un po' perché mentre che metti in onda questa puntata è già è finito quello si quello è chiaro però è vero quello che dici che la cosa più giusta da considerare tutto questo è che Gucci ha messo quella modella apposta perché se ne parlasse perché se no non se ne sarebbe parlato e invece Gucci ha detto metto sta modella sono matto e l'ha fatto solo per i soldi quindi la colpa è tutto come sempre è del capitalismo però divertirebbe se voi dite che non è bella perché non si confa ai canoni estetici occidentali ma invece pienamente mega sorca a Bali è considerata molto bella tra gli armeni e mi dice no ma hai visto le armeni ma questa se gira almeno quello esatto e comunque un saluto a sta ragazza che tra l'altro lei ascolta Tintoria lei ascolta Tintoria quindi non è lesbica no 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 anche se insomma forse sarebbe meglio basta a me dal momento che di Gucci se ne parla anche nelle canzoni non confonderlo con sono due cose diverse c'era un articolo di un altro giornale lei è la modella che tutti dicono essere brutta voi ci uscireste nel parlato quotidiano tra uomini nessuno farebbe così la domanda ma tu Matteo diciamo diciamo un po' tra di noi ma tu con quella noi chiamiamo l'aria aperta ma poi ci uscireste penso la risposta è no ma perché senti mi accompagni a prendere una cosa al tabarcaio con la faccia mi spiace ma preferisco andare da sempre se me vede il benzinaio che passeggio con te poi chi lo sente comunque come si chiamava quell'attore bellissimo che stava in febbre da cavallo non Gigi Proietti non Montesano Montesano l'altro quello che fa come parlava così ho fatto la voce di Laurenti quello che a Cicalò a Cicalò di Alberto Sorbi vai su quello che faceva di Mugnosa lui è ha sentito che alito c'aveva vai su IMDB sai come no a Giamano Tornato il vento che uccide Kamigaze Kamigaze il vento che uccide no non era Tornato Tornato il vento che uccide beh il Tornato quell'attore lì va bene questo attore che faceva l'amico di Der Pomada e di Bandra che erano rispettivamente Enrico Montesano e Luigi Proietti l'altro attore non mi ricordo il nome è un attore un caratterista bravissimo lui somiglia alla modella Gucci con i capelli corti Francesco De Rosa Francesco Neota non è capelli corti no lui lui c'ha i capelli corti lui sarebbe la modella di Gucci se la modella di Gucci avesse i capelli corti comunque davvero secondo me ci stiamo troppo concentrando su questa modella di Gucci ma non stiamo dicendo niente in realtà niente che non sia già stato detto no no ma proprio come tema basta basta c'ha ragione vabbè vediamo come si chiama quest'attore però Francesco De Rosa Francesco De Rosa allora tutto questo per dire che comunque stiamo parlando di comunicazione di Facebook appunto le cose stancano quindi si è smesso di parlare su Facebook e su cose e invece però non abbiamo anche rispetto a prima mi pare la curiosità di approcciare nuovi social perché faccio un esempio voi cazzeggiate pure con Vine con i Vines che per esempio non ho mai neanche toccato e quindi Vines l'avete approcciato e poi l'avete approcciato però per esempio TikTok qua rifaccio il mio invito a Valerio perché Valerio non sta su TikTok anche te ma c'è la Lundini Challenge è fatta per TikTok eh ma io non so cioè dovrei esportare le vecchie cose su TikTok esatto è che una volta che le esporto chi le vede i TikTokers ma non guardano le ragazzine buone eh no però tu potresti cambiare TikTok non guardano solo le ragazzine buone TikTok è fatto per ragazzine buone e ragazzi fregni però ci stanno anche le cose simpatiche divertenti sì forse ho visto delle cose divertenti carica non l'ho vista su TikTok l'ho vista io da quel poco ho capito i belli che ci sono su TikTok comunque fanno i simpatici magari facendo il lip sync della cosa buffa certo però facendo vedere che sono belli no per esempio ci sono ragazze fregne di TikTok questa parola noi stiamo parlando noi stiamo parlando di persone sopra i 18 anni comunque assolutamente sì ci mancherebbe altro però non usata a caso la parola fregne perché ci sono ragazze fregne che fanno lip sync su un monologo di Michela Giraud che diceva io non volevo essere quella simpatica io volevo essere fregna ma proprio mega fregna che è un gran monologo di Michela Giraud che loro ribaltano il significato esatto no perché c'è molto questo piangersi addosso su TikTok per ricevere complimenti e qui sono queste ragazze molto belle che fanno io non volevo essere quella simpatica volevo essere quella fregna e tu lo guardi ce l'hai fatto fanno finta di non esserlo esatto missione compiuta sei riuscita mega fregna però a me quello piace molto perché comunque sia sentire Michela Giraud quindi tu ci stai lo guardi allora io lo guardo perché io sto cercando una manovra di approccio a TikTok c'ho un paio di idee perché fare TikTok come si fa TikTok c'è quei balletti c'ho 30 anni sembro un pedofilo e quindi sei anche di sesso maschile sono anche di sesso maschile no invece se fosse una trentenne donna dovrei fare i balletti e poi scrivere mannaggia io c'ho sto problema c'ho 30 anni ma mi piacciono quelli giovani così tutti i pischelli di TikTok ti scrive pieno 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 invece se sei un uomo di 30 anni sei solo un uomo ma scrive la stessa cosa mannaggia c'ho 30 anni e mi piacciono quelle dei 12 mi piacciono quelle dei 16 e tutti pure a me no ragazzi no ragazzi mi vado a indignare non sei voglia scrive qua signora che tanto c'è a 50 però esatto noi gli avevo scritto e quindi c'ho in mente un paio di approcci che dovrei provare però mi vergogno anche solo di iniziare a provare a bazzicare TikTok proprio perché mi sento in imbarazzo per esempio no cioè gli faccio una domanda è imbarazzante è caldo porco madonna Vine è imbarazzante altrettanto sì però Vine Vine ti dava ti dava la possibilità di fare perché Vine sia TikTok no? allora Vine era una piattaforma in cui facevi dei video che andavano in loop che era una una buona idea una costrizione dentro cui tu potevi fare delle cose che facevano ridere proprio anche in base a quel 6-7 secondi a disposizione spesso anche perché c'era il loop però ovviamente se tu sei una ragazza bellissima te ne freghi di far ridere e fai un loop in cui sei bellissima e basta quindi anche lì ha preso quella piega c'era anche chi ballava chi faceva il figo eccetera io sono delle idee e stai un mese così a fare TikTok testa di cazzo guarda TikTok fa tanto non lo sente tanto non lo sente un po' un livore su questa cosa tanto non lo sente nessuno no Tintoria chi lo sente? te? Fabri? che salutiamo? eh mi riesca devo sapere quello che dico devo sapere TikTok TikTok effettivamente fa esattamente questo effetto io le odio vedi le generazioni future nel tuo caso le donne e e li odi tutti quanti fai poi te un lavoro di cesello ti tagli chiaramente io ci sono dei social che non ho mai non ho mai preso in considerazione come TikTok e anche Twitter ah bravo perché non capisco come funziona Twitter Twitter è difficilissimo però ho capito poi ho capito che in realtà ci sta un sacco anche lì di sì sì polarizzazione di cose quindi ho detto vabbè ci sono cinque profili Twitter nel mondo e il resto sono tutte copie cinque opinioni ci sono cinque modi di fare Twitter tipo le trame sì 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 le cinque trame l'uomo contro la natura sì io apro Twitter venti notifiche e io ovviamente ecocentico pancia mia fatica parla vediamo che cosa mi hanno scritto i miei followers di Twitter no Matteo Bordone dice la modella di Gucci è perché Matteo Bordone è una notifica è Matteo Bordone poi Virginia Ricci condivide un video di Vice ok ma non è una notifica per me per me la notifica è quando qualcuno mi liama io che so cresciuto su Facebook come per me la notifica è Matteo ha commentato una cosa che hai scritto te Giovanni ha detto che una cosa scritta te è sbagliata non è che la notifica non è Matteo Bordone ha detto la sua no quella è una cosa io poi se voglio mi vedo Matteo Bordone Matteo Bordone che salutiamo nome che io associo a Twitter va bene è il CEO di Twitter si di Twitter Italia scusate che ho questa sedia che fa fa nico 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 vabbè non lo faccio più nell'audio infatti non si vede che contemporaneamente mentre parliamo stiamo copulando con prostitute che ho pagato per gli ospiti perché insomma da quando Valerio ha fatto la televisione va anche delle esigenze importanti importanti prostitute che possono essere sesso femminile o maschile ci mancherebbe altro comunque ragazzi solo questi due io quelle esternazioni molto forti che ho fatto prima erano destinate soltanto alle minorenne di TikTok non a voi amiche che ci state guardando e che guarderete questa sera una pezza di Lundini in seconda serata su Rai 2 perché c'è Stefano Rapone che in realtà è un esperto di Instagram oggi mi ha preso in mano il telefono mi ha detto adesso guardo quante persone hanno smesso di seguirti io ho scoperto che ogni giorno smettono di seguirmi 20 persone e questa cosa ti uccide no ma me lo immaginavo perché so che ma non pensavo 20 al giorno poi che ne so 30 ti seguono cioè c'è sempre che c'è sempre a guadagnare un bilancio positivo però sti 20 ma che cazzo che hanno già sentito questa puntata no ma più che altro mi faceva vedere tipo il tuo pubblico come no ma ne guadagni 400 tutti di chiamarsi bomber di cosa tutto il pubblico di chiamarsi bomber che affluisce ah ok ok e c'è questo grafico a torta che ti fa vedere quanto del tuo pubblico è maschio e quanto del tuo pubblico è femmina che è anche detto il grafico della qualità sì così è detto vai continuare così è detto e la cosa è che ricordo stasera sono i due e io ricordo e quello che mi ha fatto notare Stefano Rapone è che il mio pubblico è fatto quasi persone la maggior parte di Roma e poi tutti tra i 25 e i 27 anni maschi insomma le donne sotto i 18 non esistono cioè che se tipo una 17enne sta guidando la macchinetta io attraverso mi investe per quanto non mi vede quindi cioè per questo io me la prendo con quella categoria umana che per me ripeto non esiste perché tu non te la giochi cioè sei andato sul sicuro non te la giochi allora fare qualcosa per conquistare queste persone potrebbe essere problematico legalmente quindi adesso voglio piacere le bambine voglio piacere ma conquistarle comicamente ma no ragazzi però c'è Michele Ciro che ce l'ha fatta parlando male di loro ce l'ha detto io vorrei queste fregne di merda e loro grande io quindi proprio dicendo che il padre le deve prendere ammazzate speri di conquistarle ma per che altro io penso il padre che ha questi amici disperati che vengono pure derisi dalla figlia del loro amico indagliamo un po' anche questa situazione familiare una cosa di tiktok che io ho notato spero che ho capito che io ho un discorso antisessista io mi metto sempre dalla parte del cinquantenne amico del padre di quella ragazza certo però la cosa più importante di quel video è che non è vero esatto nessuno degli amici di suo padre ci ha provato con lei questa cosa non è mai successa tiktok è il podcast delle cazzate ci sono tra l'altro qualcuno potrebbe pure finirci in mezzo certo il padre vede il tiktok e fa e ammazza l'amico e a me è stato e l'amico fa vabbè un paio di volte gli ho scritto ma per salutare la mia pensa che è brutto emergono cose invece pensa che no è vero un'altra cosa che allora io mi ricordo che quando stavo al liceo c'era un sito si chiamava studenti.it certo c'era anche quando io ero al liceo penso sei mio figlio e allora in questo sito noi io e altri miei amici del liceo c'eravamo creati le nostre pagine e ovviamente erano delle pagine gag assurde quindi io ricordo che mettevamo come immagine di profilo adolf hitler e lino banfi faceva molto ridere perché faceva ridere e io mi ricordo che la immagine di profilo mia era tipo adolf hitler e tutte cose di lino banfi come frase tipo chi sono lino banfi cosa faccio l'attore sono lino banfi però c'era la foto di hitler e quella roba per me non è che era divertente era una cosa tipo ho fatto questa cosa guardate amici ridetene non significa nulla l'altro amico aveva fatto la stessa cosa facevamo queste cose orribilanti ma non credevamo chiaramente a nulla di quello che facevamo quindi mi ricordo che poi io mi feci una pagina un po' più reale su studenti.it e misi tutti i scudetti scudetti stemmi della Roma però non era una gag per me per me era che metto come sfondo vabbè metto gli stemmi della Roma tu sai benissimo che io la Roma sta simpatica ma mai seguita come non seguo il calcio però all'epoca era tipo boh gli altri lo fanno lo faccio anch'io quindi credo che la stessa logica sia alla base delle ragazzine che dicono sono vergine no ho scopato stamattina dentro un bagno pubblico yep e invece sai che ha fatto l'epoca sono una puttana yep esatto e invece mio padre è pedofilo yep cioè lei non è che dice è vero non è vero nulla è tutto nope nope yep è pedofilo nope ho scopato stamattina però io comunque che non ho mai visto tiktok mi sta un po' inquietando fa bene sto solo sentendo parlare così mi sta ne odio fa bene ad inquietarti fa bene ad inquietarti però ce l'ho ce l'ho l'app sul mio telefono io pure ce l'ho adesso lo apro a te ti suggerirà solo pischelle assolutamente maggior anni e però c'è anche spesso Valentina Persia la comica degli anni 90 che faceva ti ricordi si eh che stava a chi l'ha a chi l'ha visto la sai l'ultima a chi l'ha visto sì sì certo oggi a mare però non avete un po' paura chiaramente la signora di non ce n'è covid non ce n'è covid che schifo hanno fatto un miliardo di montaggi sai che non l'avevo mai vista la cosa di non ce n'è covid io l'originale me l'ha fatto vedere la mia ragazza che l'ho cita a memoria quel video ma lei essendo veneta per lei la Sicilia è proprio un posto esotico oddio adesso no 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 ma stai scrollando no 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 ah fa ride però cos'è no ma questo io non vedo aspetta Valerio sta scrollando tiktok in diretta chiedo scusa alle ragazze belle di 12 anni di tiktok io sento una persona masticare hanno tolto le donne belle da tiktok hanno messo una che si mastica il braccio c'è una ragazza con un handicap cioè non ha un braccio che fa finta di mangiarselo da sola su tiktok ecco lei però è una visionaria chissà che a me pensavo ma che dai lei è una grande Valerio posso farti una domanda sei molto impressionabile ti posso dire ragazzi ma che cos'è cosa fa vedere dai signori anziani ma che sto faride posso dire che posso posso farti una domanda Valerio un po' scomoda ti va di smettere di scrollare durante il podcast ma no volevo commentare anche perché ci sono delle persone che ascolteranno solo audio ah allora chiedo scusa ci sono visti dei video nell'ordine ho visto un'altra ragazza provenina senza un braccio che lo mangiava che faceva finta di mangiarsi la parte del braccio già mancata e che era posso dire molto meno spaventoso di come hai reagito io mi immaginavo tipo una persona con i denti marci che scretolavano i denti una scena di sgozzamento che sentivo l'audio della masticazione chissà che scusa ho fatto una cosa non aveva scusa lei chi è cos'è allora adesso oggetti fatti con pelle umana come con pelle umana ma tu che cazzo sei mengele scusate ma che cosa sono guarda vedi sono tipo oggetti utensili ritrovati però fatti in pelle umana cuscita proprio come questo è sempre tiktok il dottore del nazismo ma veramente comunque questo podcast ha preso una bruttissima una brutta piega e comunque non sta dando una bella immagine di tiktok no ma tiktok non deve avere nessuna bella immagine no ok immagino tiktok non deve avere nessuna bella immagine sono delle posso dire che poi la gente mi dice non dovresti invitare montanini perché è un cavallo pazzo non sai come potrebbe andare a puntare il podcast se continui a dire ma io lo vorrei montanini invece chiamo i miei amici così la puntata andrà sicuramente bene ma chi è che dice non devi invitare montanini tanta gente io dico vorrei invitare montanini e poi le persone fanno guarda però montanini che poi fa tutte critiche alla scena comica alle cose però a me interessa pure quello a te basta che non critichi te mentre ti sta parlando esatto poi magari lo invidi e fa Matteo Di Began un pezzo di merda io chiaramente neanche faccio il contraddittorio dico ah interessante che pensi questo e poi invito che tu sei il Joe Rogan di Ponte Lung esatto che non dice mai no 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 io accetto chiunque io accetto l'opinione di chiunque poi a meno che non vieni qua a fare che ne so apologia di fascismo fatta male fatta male perché fatta bene tu l'accetti beh allora io dico che se fai apologia di fascismo fatta male io non l'accetto fatta bene che vuol dire che non è no che mi porti dei dati esatto se mi porti Daniele ti dico soltanto bonifica grande bravissimo bonifica ma tu sei sicuro che non lo monti questo podcast no questo lo metto liscio vabbè ma si capisce stiamo scassando no 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 ma anche ma lo guardano due persone il più visto in Italia sicuro vabbè no è chiaro che siamo tre comici che parlano e scherzano e abbiamo detto delle cose forti fidati fidati per motivi legali buttati sul carrozzone del sono un comico perché ne usciamo malissimo no adesso a parte le minchiate tutto questo però mi fa piacere che questa questa deriva che abbiamo preso era per chiedervi come mai Vine andava bene ritorniamo e siamo arrivati a questa cosa allora va bene in realtà abbiamo fatto un'ora e dieci un bel po' montala un po' questa puntata no assolutamente no io avrei altre altre domande però vogliamo andare avanti vogliamo poi tagli tu io vi garantisco che non taglio nulla se volete intanto ha detto tutte lui se volete no se volete tagliare le cose le taglio no allora la mazza coi chiodi io ho no ma quella quella è la cosa più scialla cioè quella si capisce il senso e il senso di picchiare le paronacce le paronacce le bestemmie che non ci sono però metti un al posto del bip ce so io che bestemmio quando tu dici la parca di no beh vabbè sui podcast si può dire si può dire cioè ho avuto fabbrico qua mica mica quelli amici vostri no però lui ha un monologo sulle bestemmie quindi abbiamo parlato di quello abbiamo detto non abbiamo bestemmato però abbiamo detto le bestemmie cioè capito la sottile differenza tra dire una bestemmia e una bestemmia tu la citi cioè tipo ieri oggi metto uno ha detto esattamente oppure quando nel tuo monologo dici ad esempio mannaggia però non è che stai ti stai riferendo in quel momento alla moglie del titolare allora io ho la domanda sulle canne che però voi non puoi fare ma ogni volta sta domanda con le canne allora perché tu hai deciso di avere questo fidruice del tuo podcast che va malissimo però è strano perché comunque è il momento peggiore del podcast comunque invidi tutte persone che più o meno poi io non mi faccio più le canne da due anni no però ho cambiato invece di fare domande sulla legalizzazione che è comunque una rottura di cazzo i tuoi amici sono tutti a favore sai che era contro Corradini sì ma tu Corradini devi imparare che dice sempre il contrario di quello che pensa quindi era a favore anche lui esatto quindi no però la domanda che faccio è se visto che invito tutte persone che comunque fanno cose creative se fanno uso di marijuana e come va il loro rapporto con la marijuana però nel vostro caso mi sa che la risposta è no quindi a posto quindi vedete ragazzi si può essere creativi anche senza le canne sì sì non ne faccio uso mamma fumo no non è vero non è vero che strano comunque è la pippo ma che vuol dire non lo so devo dire ho provato un paio di volte quando? cioè in gioventù ma te ho provato tutto mai l'eroina mai l'eroina mai l'eroina quella non l'ho provata ce l'ho riuscito no no diciamo da vent'anni hai vent'otto hai provato sì però tutti i giorni fammi provare tutti i giorni tutti i giorni è andata male mai nessun effetto no scherzo qualche volta però non mi ha mai lasciato nulla di poi ho anche chiesto perché non è che io non fumo le sigarette quindi magari non sono capace ah ok come si fa no devi fare così innanzitutto non te la devi mettere nel culo quello era fondamentale però l'hanno detto in realtà se te la metti nel culo te fa l'hanno detto quindi boh non lo so alla fine sai che c'è se non se non ti dà quella botta iniziare dici oh sta cosa è proprio buona certo perché poi continuare complicarsi la vita con con dipendenze poi fumare costa l'ho comprata 250 euro per una canna a me pare una cosa non posso permettere no infatti infatti l'hai comprata negli studi Rai immagino con quei prezzi là la famosa marijuana Rai chiedo scusa alla Rai per questa peccato Daniele c'erano delle posizioni che si stavano aprendo quando aver detto marijuana Rai nella stessa Tinto Rai il programma che bisognava fare incredibile tra l'altro Tinto Rai è una parola che già ho scritto una volta ho fatto un post recentemente sbagliandomi a scrivere è uscito Tinto Rai e quindi pure gli amici mi dicono perché te punti alla Rai io dicevo no punto a imparare a scrivere il tuo sogno segreto è il nome del mio podcast ti è emerso dal subconscio no ragazzi io mi sembra che abbiamo detto tutte le cose di cui volevo parlare no volevo chiederti una cosa a te allora Biaggio sì Biaggio che per chi non lo sapesse per i pochissimi che non lo sanno è un cortometraggio che tu hai scritto e realizzato e girato ma non interpretato no perché il protagonista è un lo possiamo dire certo pupazzo e non inteso come insulto a Roma non è un pupazzo non è tipo Rapone e dico il protagonista è un pupazzo è un pupazzo esattamente vociato vociferato da Edoardo Ferrari esattamente molto bello io l'ho visto questo l'ho visto mi è stato passato da te e l'ho visto una sera ubriaco perso ah e beh e poi ti ho scritto credo quella sera stessa non sai com'è ubriaco tu devi vedere ubriaco no perché io ho questa cosa che da ubriaco divento mega emotivo ah ti ha fatto piangere eh sì sì quindi mi ha fatto mezzo piangere cioè proprio comunque l'ho sentito e quindi mi sa che ti ho scritto oppure addirittura un vocale mi è piaciuto un botto che mi è successo recentemente mi ricordo che me l'avevi parlato poi non mi ricordo di preciso la tua emotività volevo sapere ne parliamo molto velocemente che cosa cosa che sarà del cortobiaggio e se ci saranno altri corti o lunghi o meri no certo diciamo che la mia la mia attività principale è quella di regista sì io faccio videoclip cortometraggi e chissà magari un giorno riuscirò a fare anche un lungo eh certo quindi quando facevo anche un po' parlavamo di facebook twitter che sembra appunto che sia un un giovane lanciato sui social in realtà uno dei motivi per cui non scrivo tanto è che non è diciamo come ho detto prima non è quella la mia il tuo primo sfogo il mio primo sfogo artistico più quello mi piace molto insomma ho fatto cose non per forza anche comiche mai serie drammatiche però magari una cosa di fantascienza non mi piace molto il genere insomma magari chissà un giorno qualcosa di horror di avventura l'avventura è sempre molto difficile in Italia eccetera e quindi cos'è Viaggio è una storia vera è un cortometraggio in stile Mochiumento cioè un finto documentario e parla di questo pazzo della televisione per bambini che vuole fare un film alla Caligari alla non essere cattivo e salutiamo Caligari salutiamo Caligari che purtroppo non c'è più e però nonostante tutto ascolta sempre tintoria certo e e quindi c'è un po' il contrasto perché c'è questo questo pesce fuor d'acqua insomma classico device comico del pesce fuor d'acqua insomma non viene preso sul serio perché fa una cosa che non è nelle sue corde eccetera e quindi è stato anche un po' un po' una scusa per lavorare con la scena comica romana insomma di voi di cui sono amico c'è Valerio c'è Rapone programista Edoardo Ferrario ci dovevi essere ti avevo anche chiamato tu stavi in India come sempre come sempre ci sono tutti tranne Daniele Tinti che però combatte col suo podcast da un milione di visualizzazioni a puntata eh certo tu stavi in India avevi questa questa scusa era un matrimonio in India un matrimonio in India che era famoso film no? sì sì esatto e quindi è un corto che tuttora non è ancora visibile su internet ma penso che a breve lo sarà mettilo lunedì così lunedì oggi lo possono non lo posso mettere lunedì non è lunedì il giorno giusto non è la decisione mia e forse potrebbe non andare direttamente su YouTube ma su meglio però però vediamo su qualcosa di meglio questo lo aspettiamo e no no va bene io diciamo qui con il cortometraggio in realtà sì questo lo sapere i nostri amici da casa cosa possono fare ancora non lo possono vedere però magari se tra un po' si rifanno una maratona di tutte le puntate di dintoria e arrivano a questa magari quella volta sarà visibile allora e intanto che ve la state sentendo seguite Matteo sui social così così magari avrete queste notizie dove ti possono seguire i nostri amici da casa beh del corto c'è proprio la pagina Facebook ah è vero che dà notizie appunto cioè è una cosa molto piccola a me ti posso dire mi fa anche un po' ridere cioè mi fa un po' strano sai che c'è insomma tutto il mondo dei corti dei festival cioè per me il corto senza sminuire comunque è una è anche un po' un esperimento una prova un comunque una cosa sempre molto indipendente una cosa in piccolo così con con i social si è arrivato un po' al punto in cui tutti pubblicizzano questi corti che fanno quasi come se fosse un lungometraggio distribuito al cinema quindi però lo devi anche un po' fare perché sennò poi sembra che che non te ne frega niente certo però ah siamo stati selezionati a questo festival qua cioè giustamente gli ringrazio perché ti hanno selezionato hanno fatto un'intervista per questa cosa qua a me mi sembra sempre un po' di esagerare perché dici comunque con la comunicazione sembra che sto presentando i carantini cioè capito però effettivamente va fatto c'è un po' questa cosa nel nel mondo dello spettacolo odierno per cui la gavetta è già davanti a tutti e quindi non puoi trattarla veramente come una gavetta devi devi già essere super professionale che è un po' super commerciale che crea un po' delle stranezze guarda crea dei mostri nel mondo della stand up soprattutto però immagino anche soprattutto no 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 non sai non sai i mostri che ci stanno nel nostro mondo Rapone Rapone prima di tutti ma che pure noi siamo stati mostri nel senso che tu inizi stai imparando a fare una cosa però lo devi trattare come una cosa che già sai fare si devi essere già una star esatto allora stasera che è impossibile però in teoria dovresti già farlo infatti le persone hanno iniziato dopo di noi noi non eravamo bravi a farlo ma le persone hanno iniziato dopo di noi che si trattavano sui social molto più seriamente poi si sono create un seguito sui social non necessariamente dall'altro in alcuni casi corrispondente alla qualità che poi portano che però poi è quello che conta a livello di come si dice promozione personale conta quello e quindi poi effettivamente questo è il mondo in cui viviamo e quindi bisogna un po' accollarselo cioè è vero che lo fanno però non so quanti poi risultati porta no un po' porta un po' porta perché poi comunque quando la gente si approccia a una forma d'arte nuova a quella non è abituata va a vedere quello che vede che la gente vede cioè capito cioè se vede una persona che ha un certo seguito dice vado a vedere quello e poi si fa un'idea dicendo ah questo è questa roba qua che invece non è necessariamente vero non penso sia una cosa negativa né una colpa delle persone no 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 anzi penso sia un merito lo dicevo cioè ti trovi in una situazione in cui lo devi fare se lo fai bene lo fai bene però è sempre un po' strano è vero però è un po' un aggiungo se insomma siete fan di di ferrario c'è anche Valerio c'è Emanuele Fanelli un piccolo cameo c'è Guia c'è anche Guia Guia insomma il secondo personaggio più importante è rubriaco ma mi ricordavo e quindi insomma se seguite un po' questo giro di persone vi potrà interessare c'è Vittorio De Sica no penso c'è Vittorio De Sica ma tu lo sai che in realtà l'idea originale era che c'era era tipo ambientato negli anni 50 c'era questo cupazzo che voleva inseguire tipo Vittorio De Sica veramente io ho detto Vittorio De Sica o Rossellini tipo fammi fare un film con te però insomma doveva essere una cosa in costume no tipo negli anni 50 però era molto difficile da realizzare sì un pochino va bene ok grazie mille e ragazzi io io avrei finito bravi tutti un applauso un applauso a tutti dai non si fanno mai applausi nei podcast allora guardate guardate stasera perché questo è non da lunedì quindi guardate stasera e le prossime sere una pezza di londini in seconda serata su Rai 2 seguite Valerio Matteo e me sui social e anche Rapone perché no ma dai sì ma Rapone viene qui per far dire questa cosa hai capito adesso no aspetta voi intanto visto che siete arrivati a fine podcast avete i microfoni più ambiti d'Italia a vostra esposizione se volete dare un messaggio un insulto dire qualcosa intanto vado a prendere un pennarello con cui mi dovete autografare la cosa tu lo devi riautografare puoi non fare il disegnino però lo devi rifermare con la data lo aggiungo tanto il microfono è vostro fate quello che vuole io saluto tutti quelli che ascoltano d'Italia tutti io ragazzi non parlate al cinema posso dire una cosa che mi dà molto fastidio cioè non so si è un po' diffuso più del passato adesso che siamo tornati al cinema dopo questa brutta cosa che è successa io sono andato a vedere Tenet com'è bello mi è molto piaciuto io non sono un nolaniano sai che non apprezzo molto Nolan non tocca le mie corde però non è la tua coppa di te it's not my cup of tea però mi ha molto emozionato di tornare al cinema e vedere un film grosso e nessuno parlava ed è stato molto bello continuiamo così ok io rifirmo anche se l'ho già fatto dove ti pare con la data grazie mille in questo momento per chi stesse sono ascoltando io ho detto una cosa antipatica però non esistono cose antipatiche a tentoria esistono solo cose anzi è stata positiva perché l'ultima esperienza era stata positiva perfetto non ho sentito perché stavo cercando la penna disperatamente l'hai visto Tenet? no ancora no lo voglio vedere sì peccato che stavo aspettando che tornasse la mia ragazza e nel frattempo nella mia bolla mi è arrivato uno tsunami di commenti su Tenet e quindi già ma tu parli di spoiler o di aspettative? no di persone che dicono bello brutto principalmente brutto o non si capisce un cazzo e a me dispiace quindi vorrei far passare un po' di tempo perché se no adesso c'ho ancora troppo vabbè ma che non si capisce dice Nolan sì però quello ci andavi cioè tu fai conto che è un film di spionaggio già lì di Nolan di Nolan ma io tipo anche Mission Impossible che è un non capisco cosa succede il primo tutti io mi riguardo mi piacciono riuscire ad azione però non ho idea di cosa sia succedendo Mission Impossible c'era uno capolavoro il cinque mi sa quello non so se perché non era quello o era quello a Bangkok cioè Mission Impossible che a un certo punto aveva smesso di rifarli belli a un certo punto ne ha infilato uno atomico mi firmi anche tu è un film di spionaggio con i viaggi nel tempo di Nolan quindi tu a capire ci rinunci subito ma il viaggio è là ok non è il film io non me lo posso vedere perché? perché non lo capisci non lo devi capire ah devo firmare sì io non capisco neanche i film normali cioè io ho difficoltà anche a capire le commedie o i gialli quindi c'ho un problema secondo voi sto pennarello bellissimo mi si cancella? ah questo non lo so no 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 non ci tocca adesso fallo seccare prima però vedi alcune cose tipo però non tutte sono fatte con questo pennarello però ho paura che mi si cancella invece io vorrei che tipo mi restasse per sempre e poi una volta che questo cartello che per chi non vede è un po' il poster di Tintoria mi è costato 2 milioni fra sta cosa tra l'altro lo vorrei tipo plastificare appendere e fare un altro uguale perché Tintoria durerà per sempre nella mia testa anche perché è la mia unica fonte di reddito perché Valeria e Matteo hanno pagato 1000 euro per stare qui questo lo dico per correttezza 1500 io 500 lui perché parlavamo del programma mio però vi stavamo parlato di Biagio adesso lo dico e quindi adesso fate 1257 naturalmente Black Black Mamba esatto Ele Noir Casale come si chiama? anche Ele Noir Casale si chiamava Casaleggio e va bene grazie grazie mille Matteo grazie grazie mille Valerio grazie mille Daniele grazie mille a tutte grazie mille a tutti ci vediamo alla prossima puntata una pezza di Lundini questa sera e tutte le altre sere in seconda serata in seconda serata decollegata alla quarta puntata però vi dovete affezionare i personaggi mi raccomando soprattutto agli intervistati vi dovete affezionare invece no lascia fare va bene ciao 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 Ciao!